19 febbraio 2023 ore 10 e 30 siamo arrivati al famoso castello di bracciano cartello castello orsini o descalchi mi fanno la concorrenza qui c'è un signore il signor giorgio che mi fa la concorrenza e mi vuole lui prende a me io prendo a lui andiamo avanti ok allora siamo alla base del castello e voi tutti saprete sicuramente l'avrete letto che il castello orsini o descalchi è anche noto come il castello di bracciano è un castello risalente al quindicesimo secolo adesso la nostra guida sta prendendo i biglietti per entrare e praticamente questo qui è stato costruito con tre cinte di mure esterne e ha presente cinque torri vedete che torri gigantesche sono torri di avvistamento una per ogni vertice del castello è stato costruito nel 1470 dal napoleone orsini quindi la prima famiglia e sono gli orsini questi sono i nostri colleghi della gita le famose gite di fantozzi queste sono il castello apparteneva a braccio di montone vi ricorda vi ricorda qualcosa braccio di montone ecco qua braccio di montone che anche cercò di espugnare l'aquila no guardate braccio da montone il castello apparteneva braccio da montone dietro richiesta del papa per motivi politici fu donato a orsini capitano orsini capitano delle guardie ok sulla nostra sinistra una bellissima che cos'è 850 che è questa io non lo ricordo però è una cosa spettacolare guardate tenuta bene non prendo la targa e state tranquilli allora questa è l'ingresso del castello castello ode scarchi di bracciano aperto tutti i giorni il fratello di napoleone il cardinale latino orsini non è napoleone buona parte napoleone orsini il fratello di napoleone orsini latino erzini era il camerlengo del papa assisto quarto proprio negli anni in cui venivano costruiti quasi simultaneamente la cappella sistina e il castello di ciano si aprono le porte del castello o per noi si aprono le porte del castello vai vai stai stai non vi riprendo vedete come è costruito questo pietrame è sempre una arenaria ma più che arenaria questo è una roccia una roccia vulcanica mi sembra la vedo molto scura non è proprio la nostra arenaria la classica arenaria che è un colore più chiaro questo è un po scuro io penso che questa sia di origine vulcanica perché queste zone è pieno di vulcani quindi di laghetti vulcanici quindi qui la zona di viterbo le rocce non sono proprio arenarie ora andiamo a vedere da vicino che voi sapete che a me la passione per le rocce ho fatto geologia l'esame l'ho fatto quindi conoscevo le rocce queste rocce non sono non sono arenarie queste rocce sono di origine vulcanica le vedi come sono scure questa roccia qua si chiama peperino sa come si chiama questa roccia peperino è lo vedi come ci sono i lapilli eccoli guardate guardate da vicino vedi questi sono i lapilli vulcanici questa qua è una roccia effusiva vedete cioè effusiva nel senso che uscita fuori dal vulcano non è intrusiva come il granito che si è solidificato a grandi temperature questa è effusiva le temperature sono inferiori però comunque sembra una grande roccia e lo usano molto nell'edilizia il peperino da non confondere con la pietra serena queste cose queste le sene queste le sene che stanno sul portale qui i miei colleghi mi dicono a che servono sono fatte per far entrare i carri i carri giganteschi queste sono all'altezza delle ruote dei carri vedete a rivedete questa muratura qui invece è fatta di calcare carbonato di calcio vedete da non confondere con la pietra serena o il peperino ma perché la gioconda era falsa quella lì l'hanno rimessa una fotocopia e quella è come fai a fare la foto delle gioconde non te la fanno fanno comunque vediamo se ci fanno fare riprese non lo so non lo sapevo e ci venivo però guarda vi faccio una ripresa di due esemplari di donne abruzzesi vedete come sono forti e gentili eccole qua diciamo che insieme faranno 200 anni però vabbè sono sempre forti e gentili ecco qua una ripresa del lago dall'alto del palazzo di bracciano vedete questo è il punto più alto della della città vedete purtroppo oggi c'è un po di foschia non possiamo vedere i paesi intorno al lago vedete che belle scale fatte in mattoni a spina di pesce questo è il piazzale del cortile d'ingresso mi commenta per favore questo piazzale che cos'è qua ci sono due ordini di colonne in stile che stile è questo colonna mi sembra stile d'orico giusto le foglie di aganto quelle sono ma allora corinzio che stile è lei non sa che stile è questo scusi ma chi ti ha dato il diploma a lei allora il mio amico mi domanda il mio amico mi domanda come mai tu sai il nome delle pietre perché io ho fatto geologia e ho preso un bel 18 politico giusto e mezzo queste allora ragazzi queste sono le antiche cucine dei principi orsini e o descalchi vedete qui cinghiali cervi cinghiali cervi camosci vedete che bello qui cucinavano e poi l'estate mangiavano fuori al cortile facevano dei grandi pranzi come si vede nei film nelle ricostruzioni guardate che cammino gigante è una cosa impressionante questi mangiavano guardava non faccia nessuno guardate che che cammino enorme qui guardate lo mamma mia questo cucinavano e andava tutto sopra guardate che cammino gigante è enorme una canna fumare di un 50 per un metro per un metro vedete qua i lavandini per lavare avevano l'acqua in casa questi vedete qui beh è una bella cosa ah guardate in alto giulietta giulietta butta giù le trecce questa è la famoso la famoso arco di giulietta e romeo vedete e quella signora sopra e giulietta guardate che vista guardate che vista sembra di stare a castiglione del lago è la stessa cosa vedete i campi da tennis il il lago è uguale gli orti guardate ma anche impressionante tutti uguali sono intorno ai laghi sono guardate una barca beh molto bello però qua di diversità c'è una bellissima chiesa con un bellissimo campanile guardate quanti comignoli ragazzi qui vedo un concorrente che sta leggendo le istruzioni comunque il papa alessandro sesto nel 1496 confiscò il castello agli orsini in questi anni risalgono le prime decorazioni tra più famosi il ciclo delle donne medievali che illustra la vita di corte del tardo medioevo e l'affresco di antoniazzo romano che riproduce il trionfo di gentile virginio orsini sembrerebbe sembrerebbe che questa cosa è un antico camminamento per gli abitanti di bracciano che li facevano accedere al castello belvedere infatti c'è scritto belvedere giusto perché dove qua grazie prego ma io ce l'ho qua non c'è scritto al mio allora siamo all'interno del palazzo del castello e vedete ogni stanza c'ha un camino vedete che cammini giganti non lo so se tirano io penso che tiravano perché tutto aperto qui quindi si crea una decompressione quindi sicuramente funzionavano questi cammini però per riscaldare queste stanze c'era ogni stanza un camino questo è una cosa sicura questa qua è la loggia delle armi questa collezione di armi risultato della passione ottocentesca del libro dei scarchi si tratta di oggetti per lo più rinascimentali che dialogano naturalmente con la fresco del 1440 con l'accoglienza data dalle di francia carlo ottavo nel castello di bracciano ecco le quali armi questo l'hanno rifatto il tetto è questo detto è stato rifatto perché vedo che hanno messo delle cose hanno rifatto il tetto che vedo hanno messo delle rinforzi vedete una capriata hanno fatto questa è un'opera di recente ecco la soluzione adesso mi puoi riprendere sì perfettamente adesso ho dato la telecamera a una mia collaboratrice che vorrebbe inserirsi il mio canale quando mi dà se mi danno un bello stipendio io l'assumo però fotogenico guarda che bello fotogenico dai mettiti la che cos'era antoniazio parli di nuovo tagliazzo no però a noi si diceva non lo posso dire questa però si diceva che papà assisto con gli occhiali che se i cardinali si si ma la sai ma dai qui stiamo di fronte a un affresco di antoniazzo romano il pittore che riproduce scene di diciamo di guerra di richiamata alle armi che cos'è qua come lo possiamo chiamare questo scene di tutti i giorni vediamo che dice la ditascalia lettera del primo gennaio 1490 del pittore antoniazzo romano al convintente virginio orsini virginio orsini gli ha detto fai sta cosa e lui ha scritto questa lettera vedete scritta a penna con l'inchiostro si capisce pure però vedete signor mio signor mio firmato vedete antoniazzo romano vedete sotto pittore antoniazzo romano pittore la cavalcata di gentile virginio eccolo che cos'è questo e l'incontro con piero dei medici vedete questa è la cavalcata eccola qua cavalcata di gentile virginio che incontra pietro dei medici giusto dico giusto capito che cos'è questa questa è la cavalcata di gentile virginio che incontra pietro dei medici capito mamma mia vi devo spiegare tutto guardate qui come stanno messe in ordine queste 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 armature guardate lei ha cominciato a ridere dall'inizio sta signora mi piace che è un tipo allegro mia moglie è sempre arrabbiata sta mi piace le persone solari solari da sole guardate che belle capriate queste le hanno rifatte nuove sono recenti queste penso degli anni sono molto recenti vedo questa si chiama capriata palladiana vedete perché c'ha i contraffissi la catena di legno di castagno che qui abbondano i grandi castagneti qui intorno al bracciano e quella sopra è il monaco con i contraffissi vedete che brevetto quello è Palladio l'ha inventato vedete per ripartire i carichi guardate che brevetto che si inventò Palladio famoso architetto Palladio famoso nelle zone di Verona Vicenza grande architetto prima non esisteva la palladiana esistevano le capriate normali semplici con un monaco centrale senza i contrafforti ok andiamo avanti